buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di angela oggi con un nuovo video infatti impareremo a coltivare le zucchine con il metodo dell'irrigazione a gocce più di un mese fa ho preparato i semenzai con del terriccio universale della terra comune ho tenuto i semi avvolti in carta assorbente umida per 24 ore e quindi li ho piantati nei successivi giorni ho mantenuto il terriccio sempre umido e dopo circa una settimana le giovani piantine cominciano ad affiorare le ho fatte sviluppare ancora qualche settimana e oggi dopo aver preparato il terreno in cui collocarle e sistemata l'irrigazione a gocce ottimo sistema come spiego nel mio manuale del perfetto contadino mi appresto a trapiantarle ecco una piantina con il suo apparato radicale e adesso la metto nel terreno continuo così fino alla fine tenendo sempre l'irrigazione a gocce aperta fino a quando non avrò terminato non rimane che seguirne la loro crescita e già non vedo l'ora di vedere le prime zucchine ma non temete perché seguiremo il tutto passo passo come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina facebook di cui trovate il link mentre se avete dei problemi con le vostre piante vi invito a segnalarmelo ed io eventualmente realizzerò un video nella playlist sos angolo verde in cui proverò a darvi il mio aiuto non mi rimane a questo punto che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti